Capitolo 2 Stiamo andando alla villetta Sonic Alla villette Villette Sonic Stavamo sulla metro Eccoci Adesso metro 2 E poi metro 5 Siamo leggermente in ritardo con i suoi Guardate ci stanno aspettando Mi avevamo già detto che Alla fine Per le 5 Ci compagno Siamo ancora in metro Abbiamo cambiato la prima La ci aspetteremo i nostri amici Chi è Tommy? Posso birra Ci hanno fregato un euro Roma ladrona Parigi ladrona E poi Rapportare il bicchiere Così mi danno un euro Il posto non è male C'è un sacco di gente Si riesce a camminare La gente mi guarda strano Red Tour Goblet Grazie Megatrona değil mi Ci sono Abbiamo Magbettato Di precoccio Ferbici Mancano delle cose Ma adesso ci siamo Queste erano quelle che c'ho Brunza bronza Sono bello pieno Cosa che ti ha detto? Che se mi caga anche in testa un uccello mi scivo I dolci sono arrivati Bianca sta mangiando quello di Giorgio, Rabbi ha rosicato, Rabbi fa le foto come al solito E' veramente, no più che stanchi mi sento pieno come un uovo Mamma abbiamo mangiato un sacco alla faccia della dieta Abbiamo mangiato troppo Adesso saliamo Casina bella però ci facciamo 28 piani di sacco Non ce l'ho fatta Buonanotte a tutti, siamo un po' provati Adesso Paolo fa il montaggio del video Un bacione Grazie 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 Grazie